Buonasera a tutti ragazzi, appena finita la partita tra Atalanta e Roma 2-1 per l'Atalanta e vi dico la verità, raramente ho visto partite con due squadre più o meno dello stesso livello e nelle quali una delle due prevaleva così nettamente sull'altra per lunghi tratti della gara. L'Atalanta per 70 minuti ha stradominato la gara, è andata subito sul doppio vantaggio e poi credetemi si è divorata di tutto e non è riuscita a chiudere la gara sul 3-0 come avviene spesso nel calcio. In una delle poche sortite in attacco della Roma i giallorussi trovano un calcio di rigore che Pellegrini segna e quindi poi negli ultimi minuti c'è stata un po' di apprezzione da parte dell'Atalanta di portare in porto il risultato però in tutta sostanza voglio dire non è che la Roma poi avesse in ultimi minuti creato pericoli enormi all'Atalanta anzi sempre in contropiede l'Atalanta ha continuato a divorarsi gol incredibili l'ultimo di Coopminers a porta vuota spara praticamente alto. Con questa vittoria l'Atalanta che deve anche recuperare una gara balza al quinto posto proprio a più 3 sui giallorossi e quindi in questo momento sarebbe qualificata per la Champions League dell'anno prossimo. Vi dico la verità l'ho detto già nel video precedente dopo 20 minuti esaltavo il gioco dell'Atalanta e mi ripeto non me ne vogliono i tifosi della Roma la qualificazione in Champions dell'Atalanta sarebbe strameritata perché negli ultimi 2-3 mesi sta facendo vedere veramente un calcio eccezionale anche oggi veramente quelli della Roma non riuscirono a stare dietro alla velocità, all'aggressività, alle sovrapposizioni, agli scambi continui tra i calciatori dell'Atalanta. Propriamente la Roma per 70 minuti ci ha capito poco ma credo che con questa Atalanta oggi farebbe fatica qualsiasi squadra ad affrontarla. Vedi Liverpool, vedi Liverpool, vedi Marsiglia che ha perso 3-0 nella semifinale di ritorno di Europa League e secondo me l'Atalanta può giocarsi veramente le sue carte nella finale di Europa League contro il Bayern Leverkusen. Quindi una squadra in questo momento gira a mille veramente è una condizione psicofisica invidiabile e quindi può arrivare a qualsiasi risultato. Sono molto contento perché io la DEA la seguo da molti anni, chi mi segue su YouTube sa cosa penso io della dell'Atalanta e della DEA, una società che ha un progetto ben preciso, valorizza i calciatori, vedete che cosa è successo a decetelare da quando sta all'Atalanta, l'ho detto neanche nel video precedente, un giocatore riconoscibile nel Milan, invece quest'anno già autore di 13 gol e 9 assist, quindi un giocatore completamente ritrovato nel pieno del progetto Atalanta. Una squadra completa, poi tra l'altro anche nelle riserve a diversi giocatori che stanno in panchina, che sono pronti ad entrare a dare un apporto importante, Scamacca che ha ritrovato se stesso finalmente sta diventando un calciatore sempre più importante, Luckman, Matutti, Gin City, tutta la rosa dell'Atalanta è veramente invidiabile e anche il portiere Carnesecchi dice la sua tra i pali, quindi una squadra completa in tutte le parti e che veramente gioca bene, Gasperini fa giocare in modo stupendo e quando sono in queste condizioni, in queste condizioni veramente fanno vedere un calcio spettacolare, molto europeo e molto offensivo. Quindi complimenti all'Atalanta che è veramente un passo ad una nuova qualificazione in Champions League, ripeto deve anche recuperare una gara e poi andrà a giocarsi due finali Coppa Italia e Europa League. Applausi a scena aperta per questa squadra che veramente sta facendo divertire. Buonasera, adio!